Quando un gruppo cresce in modo esponenziale, come è cresciuto da tre anni a questa parte, mi devo ripetere, io credo che per migliorarsi, migliorare il gruppo stesso, bisogna fare acquisti mirati, pochi ma buoni, se si parla di rinforzi. Questo la società lo sa, nell'ultima riunione sono stato chiaro con Bigock, col Presidente, e gli ho espresso le mie idee. Molte volte si sente dire da nostri tifosi, vogliamo vincere, io sono il primo e voglio vincere, come allenatore un allenatore vuole sempre vincere, è chiaro poi tutto questo va coniugato con altre situazioni. L'importante è che da parte di noi addetti ai lavori, nel rispetto che abbiamo verso i tifosi, ci vuole sempre chiarezza. L'importante è essere tutti chiari, che si dicano le cose come stanno, come si sono detti nella riunione anche privata, in modo da informare tutti. In questo caso credo che qualsiasi idea abbia la società vada rispettata.